Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Pestum e presidente della provincia di Salerno, è stato arrestato questa mattina in seguito a un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Salerno. L'esponente del Partito Democratico è coinvolto, insieme ad altre cinque persone, in un'inchiesta che contesta i reati di turbativa d'asta e corruzione. Tra i soggetti interessati dalle misure cautelari ci sono Vittorio De Rosa e Alfonso D'Auria, rispettivamente amministratore e procuratore speciale della Dervit Spa e Ilvir Alfieri, titolare dell'Alfieri Impianti SRL e sorella del sindaco, Andrea Campanile, collaboratore del comune di Capaccio, e Carmine Greco, responsabile tecnico comunale e RUP nei procedimenti sotto indagine. L'operazione ha portato al sequestro di beni per un valore superiore ai 543.000 euro nell'ambito di un'inchiesta che riguarda procedure di affidamento pubblico di lavori. Sotto la lente degli investigatori, in particolare, due appalti, uno per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica di Capaccio Pestum e un altro per l'adeguamento dell'illuminazione stradale tramite l'installazione di sistemi a Le gare sono state entrambe vinte dalla Dervit Spa, società che, secondo l'accusa, sarebbe stata favorita dagli indagati per ottenere l'aggiudicazione dei lavori. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Eboli e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, puntano a fare chiarezza sul ruolo giocato dagli imputati nelle procedure di appalto, rivelando un quadro di sospetta collusione e malaffare all'interno del comune.